ciao saluto un caldo saluto una giornata bella fresca e non lamentiamoci di questo fresco perché fra un po lo rimpiangeremo allora vediamo gli omium di oggi e a dire il vero volevo fare anche gli omium di ieri che a me era tanto piaciuto quello di oggi intanto ricorda il fatto che non si dice tahanun per tutto il mese e che si legge il ve l'ho messa sul gruppo il nasì la descrizione delle offerte portate dai nesim dei capi di ogni tribù durante i dodici giorni della dedicazione del santuario e lì si dice anche un iei razzon che si trova stampato nel nostro sidur che è molto è molto bello e spiega che anche i coanime i levi lo dicono perché lo deve spiegare perché in questo direzono ognuno dice se io sono della tributa al dei tali che quella dello stesso giorno e però uno direbbe va bene ma uno che coanche levi sa di che tribù è gli altri non lo sanno e per cui invece viene spiegato qui mio padre diede istruzione al suo cognato rav moshe orenstein che era un coen di dire in ira zon dopo il nasì aspetta che chiudo la finestra altrimenti io vivo vicino a una stazione dei pompieri per cui diciamo che le sirene da me sono più frequenti che in altri posti speriamo tutto per il bene e senza che succeda veramente qualcosa di grave a nessuno allora dice che mio padre diede istruzione al suo cognato che era un coen di dire comunque i razzon dopo il nasì notando che anche un coen o un levi devono dirlo poiché esso è correllato all'ibur e bur è come si parla del feto è quella situazione precedente alla rivelazione dove tutto è ancora uno tutto è ancora indistinto per cui c'è un qualcosa che unisce veramente tutte le le tribù ancora prima di qualsiasi distinzione per cui anche un coen e anche un levi lo dicono e se me lo permettete leggo anche quella di ieri e dice questo mio padre di saonfer brengen in un ai traduti non incontro chassidico disse dio creò l'universo e tutti gli oggetti materiali dal nulla un processo di creazione di qualcosa dal nulla l'ebreo quindi ognuno di noi deve trasformare il qualcosa nel nulla deve fare l'opposto vuol dire trasformare il materiale in spirituale per me questa cosa è bellissima il servizio di volgere il materiale in spirituale e rendere la materia strumento della spiritualità questo servizio un obbligo personale che riguarda ognuno ad ogni singola persona individualmente è richiesto di fare ciò spero vi sia piaciuto come è piaciuto a me ogni cosa che ci ricorda non solo cosa siamo qui a fare ma quanto hashem si fida di noi quando noi riusciamo a risvegliare dentro di noi soprattutto quando vediamo quella qualche frutto del nostro lavoro e capiamo allora che hashem si sta fidando di quando ci manda qualche segno è perché si sta fidando di noi e allora chi vuole tradurre tradire la fiducia che hashem pone in noi mettendola in dubbio no no non mettendo in dubbio sia anche la sua fiducia ma la fiducia che noi abbiamo in noi stessi se hashem si fida di noi perché noi non dobbiamo fidarci e molto molto oggi parleremo proprio di questo e anche se accenneremo e parleremo della parashah ma soprattutto non possiamo fare a meno nel momento in cui ci siamo ancora dentro di parlare del rosh kodesh nissan di questo mese il mese dei miracoli nissan con due nun che ricorda non solo tutti i miracoli che sono successi ma proprio un mese adatto è lì è il miracolo a portata di mano e comunque già nella nella parashah di astimana tasria si parla all'inizio della parashah vediamo come viene fuori la nostra capacità di creare una nuova vita di dare vita a un nuovo essere dice quando una donna genere partorisce un maschio e vedremo questo innovarsi questo portare qualcosa di nuovo nel mondo come si collega alla forza del mese di nissan che è il mese che ci ricorda il potere speciale che dio ci ha dato di stabilire noi stessi i capi mese e di conseguenza le festività con la santità che viene poi a riempirle che dio la città divina che dio vi mette dentro cioè pensarci è incredibile ragioniamo un attimo sul fatto che dio ci ha dato lo shabbat tutto quello che ci ha dato ci ha dato e a un certo punto mentre siamo in egitto poco prima di uscire ci dice ecco adesso do a voi questo mese come cavo mese mese della geula e da qui in poi voi assumete la responsabilità il compito dove io dio non mi ci posso più mettere in mezzo di decidere quando è il capo mese tanto che quando sugli angeli qualcuno viene chiedere a questo mese il capo mese io gli devo dire scendiamo giù a vedere che cosa hanno deciso perché non sta a dio deciderlo l'ha dato in mano a noi e decidere il capo mese vuol dire appunto che legato al capo mese poi si sa quando cade una festa e una festa delle nostre feste ha dentro una santità che che noi sentiamo che che lavora su di noi e che influisce sul mondo e questa santità divina dio la mette nel giorno che noi diciamo decidiamo questo al punto che se il badin decide quello è il capo mese e poi si scopre che ha sbagliato proprio può succedere ha sbagliato resta quello una volta che l'ha deciso questo è lui l'ha deciso prende vigore e quello è il capo mese tanto che dio sconvolge poi tutto tutto l'universo il mondo per dare ragione al alla nostra decisione per cui abbiamo una forza che a volte dobbiamo pensare quanto è incredibile quanto la dobbiamo usare quanto ancora una volta dio si fida di noi e ci affida responsabilità e compartecipazione essere soci con lui nella creazione questa cosa ci deve poter caricare comunque nissan e anche abbiamo detto il mese dei miracoli ma anche il mese della primavera e possiamo che cominciare a vedere intorno a noi qualche qualche segno ed è detto schmor et chodesh aviv conserva il mese della primavera cosa vuol dire vuol dire che noi dobbiamo fare in modo che la festa di pesach cada sempre in primavera per questo si stabiliscono gli anni bisestili in modo da far corrispondere il l'anno solare il calendario solare con il calendario lunare e fare in modo che pesach arrivi sempre in primavera perché perché ci deve essere questo collegamento allora se noi pensiamo alla primavera a ognuno cosa richiama in mente la primavera il rinnovamento la fioritura la crescita e e vediamo un po' vediamo un po' il nissan e la primavera dell'uscita dell'egito e vediamo un po' per noi riguardo il nostro rapporto con la kadosh baruchu noi sappiamo che ci sono due direzioni nel nostro rapporto con dio una è descritta da quello che quando studiamo nel mese di elul diciamo annile dodive dodili che rappresenta caratterizza il nostro lavoro di correzione di noi stessi di ciù va di miglioramento del nostro essere per adeguarci alla volontà di a kadosh baruchu e quindi il nostro lavoro dal basso per collegarci unirci a dio questo è annile dodì vedo di lì e però abbiamo poi sempre nel shirashirim un altro verso analogo che dice dodì lì vea nì lo voglio dire la partenza è da un'altra parte se abbiamo un rapporto con la kadosh baruchu bisogna vedere chi comincia come quando ci sono una coppia sposati e c'è un po' di maretta spesso uno sta a vedere chi comincia se quello comincerà a dire una buona parola io poi anche eccetera qui però il nostro chi comincia e che a elul e siamo noi dal basso e a nissan perché questo verso di dodì lì vea nì lo cioè il mio amato e io verso di lui quindi è lui che comincia caratterizza l'abbondanza del bene che dio ci elargisce dall'alto senza un nostro sforzo preventivo come facciamo a elulatiscire non è un risveglio dal basso nostro che stimola il risveglio dall'alto qui c'è il risveglio dall'alto l'abbondanza che dio ci dà e che casomai risveglia noi a servirlo entrambe queste direzioni sono necessarie non c'è quella giusta e quella sbagliata sono entrambe necessario ma ora che siamo nel mese di nissan la nostra attenzione va va di più sul do di live a nilò e guardiamolo nella nostra storia quindi come siamo usciti dall'egitto come abbiamo fatto uscire dall'egitto non era possibile nessuno poteva uscire dall'egitto e noi siamo usciti non in due o tre un popolo intero milioni di persone ma come abbiamo potuto la scema ha fatto molti miracoli nella nostra storia ma sempre in genere questi miracoli sono seguiti a una nostra azione dal basso che ha aperto la via dell'intervento divino facciamo l'esempio di Chanukah non si può dire che la nostra guerra a Chanukah non sia stata vinta in modo miracoloso perché un pugno di uomini che va a combattere contro una superpotenza contro un impero e con natura non ha nessuna possibilità di vincere per cui è chiaro che la vittoria è miracolosa però è anche che noi abbiamo fatto il nostro sforzo dal basso e abbiamo combattuto ma a nissan dall'egitto abbiamo combattuto contro gli egiziani li abbiamo tirato dietro le mazzot che cosa abbiamo fatto niente a nissan ha detto voi non dovete fare niente faccio tutto io faccio tutto io e di fatto abbiamo visto non solo a nissan ma cosa è continuata per 40 anni nel quale abbiamo visto 40 anni nel deserto dove dio non dovevamo fare niente tranne che seguirlo non dobbiamo fare niente quindi l'apertura del mar rosso la manna che cadeva dal cielo le nuvole della gloria che ci accompagnavano tipo cuscinetto da tutti i lati addirittura tutto il camminare che abbiamo fatto non ci sono mai venute le vesciche ai piedi perché queste nuvole ci avvolgevano come addirittura anche delle scarpe ortopediche nessun particolare è rimasto fuori la il pozzo di miriam che ci seguiva dovevamo partire per un'altra tappa e si parte andiamo il pozzo che ci veniva dietro cioè pensare a queste cose ormai ci siamo abituati ma se uno le immagina è qualcosa di incredibile i vestiti che crescevano con noi quindi un mondo magico dove ogni nostra necessità trovava risposta miracolosa dall'alto e anche anche incredibile pensare un popolo intero milioni di persone che si spostano nel deserto fanno la loro vita normale nel senso che si sposano fanno figli dormono mangiano tutto così e tutto in modo miracoloso e chi non vorrebbe una cosa simile cioè quando ti dicono tu non ti preoccupare vieni con me non devi fare niente troverai tutto pronto tutto perfetto uno rifiuta una cosa del genere eppure dall'egitto siamo usciti solo nel 20 per cento della popolazione del popolo ebraico l'ottanta per cento ci è rimasto nel senso che è morto lì l'ottanta per cento è rimasto lì perché qualcuno ha una risposta vi lascio anche aprire i microfoni se volete non erano gli ararava no anzi loro sono usciti hanno approfittato dell'occasione sono venuti fuori no moltissimi l'ottanta per cento non è uscito perché mi ha dato pensare a tutte le persone che sono nella gola beh se ci pensiamo no è per paura no che pensavano che andare fuori forse era l'ignoto metteva più paura che la la brutta realtà che vivevano e cosa denota paura avere paura cosa denota non aveva nemmunà esatto non aveva nemmunà di fatto era quello cioè gli hanno promesso hanno visto tutti i miracoli delle piaghe dell'egito hanno visto la promessa mosce mandato da dio tutto era chiaro e se avvenite vi porto in una terra di latte e miele non sapevano ancora dove città i 40 anni ma il la torà sapevano di doverla ricevere e sapevano che dio avrebbe come aveva pensato a loro in quel tempo lì così avrebbe continuato a pensare loro eppure non volerò iniziare quel nuovo percorso perché esattamente non ebbero fede non credettero nella possibilità di una nuova vita diversa dalla schiavitù alla quale erano abituati non credettero nella possibilità di cambiare presente quando ti dici e se poi mai nessuno l'aveva provato prima che ci dice che è possibile ora come queste cose ci riguardano molto da vicino dobbiamo approfondirle un po' per vedere cosa ci blocca anche a noi primavera innovamento vogliamo e invece non ci andiamo per questa strada cosa succede noi sappiamo che oltre alle nostre facoltà dell'intelletto sappiamo che siamo formati in un modo tale in cui agiscono in noi tre facoltà dell'intelletto che sono sapienza comprensione e conoscenza e poi abbiamo il resto che sono tutte le nostre facoltà attributi emozionali però al di sopra di tutto questo al di sopra dell'intelletto vi è qualcosa che è chiamato keter corona e come la corona sta al di sopra della testa il keter sta al di sopra della logica e questo keter stesso, questa forza che è nostra in qualche modo ma non troppo afferrabile è composta di tre aspetti che hanno un certo ordine e questi tre aspetti, queste tre parti sono emunà, pede tanug, piacere e razzon, volontà quindi ognuno di noi penso, no? vuole sì rinnovarsi proprio come la primavera ci suggerisce chi non vorrebbe vedersi come gli piacerebbe vedersi ognuno vorrebbe cambiare, migliorare, iniziare una nuova strada e perché così spesso non ci riusciamo poiché non crediamo veramente che sia possibile lì, lì è la risposta perché solo quando credi veramente nella possibilità di cambiare quindi emunà a quel punto quando la vedi lì possibile provi piacere, ti entusiasmi all'idea piacere e entusiasmo che ti spingono ad agire a tirare fuori una volontà che ti fa agire questo è l'ordine delle cose sentite un po' è stato fatto un esperimento in America nel quale ho chiesto alle persone di fare una lista di tutte le cose che producono per loro piacere e il piacere scientificamente visto che questo era un esperimento scientifico il piacere fisicamente produce un ormone per esempio che si chiama dopamina non credo sia l'unico comunque quello forse più conosciuto ora le liste se uno va a leggere le liste cosa hanno scritto le persone in genere junk food patatine, cioccolato, coca cola seguito da musica, attività fisica shopping, sport, droghe, alcol tutte queste cose che producono piacere e tutte queste cose possono effettivamente produrre un piacere ma ognuno di noi sa che inseguendo solo queste cose non si arriva alla sua parte se non a produrre delle dipendenze ma la parte più importante dell'esperimento fu un'altra il fatto che prova che si può imbrogliare fra virgolette il nostro cervello ad esempio il rumore di una lattina di coca cola che si apre a sentirlo chi veniva collegato a macchine che fanno vedere che cosa succede nel cervello dopamina e tutti i centri del piacere risvegliati quindi già piacere soltanto all'idea quindi già questo stimola la reazione al piacere l'aspettativa alle persone all'esperimento dopo averle collegate a macchinari in grado di leggere le reazioni delle varie zone cerebrali fu chiesto poi di pensare visualizzare ed esprimere a parole nei dettagli alcune delle loro mete nella vita cosa aspiravano a diventare a realizzare scopi che desideravano molto raggiungere la risposta cerebrale fu sorprendentemente quella dell'attivarsi delle zone del piacere solo a pensare a immaginare quando entri e proprio ci pensi e lo vedi lì si attivavano le stesse zone piacere che si attivano quando una persona prova di fatto piacere al momento per una cosa presente che esiste nella pratica quindi come è possibile provare piacere per qualcosa che desideriamo ma non abbiamo ancora raggiunto perché è così importante perché torniamo su questo perché il piacere è il motore è la benzina senza piacere senza l'idea che avremo piacere di una cosa non è che avremo la motivazione sufficiente per darci da fare faticare quindi quando crediamo veramente come è possibile provare piacere per qualcosa che desideriamo ma non l'abbiamo ancora raggiunto solo quando crediamo veramente che la cosa sia possibile quando la vediamo lì come realizzabile con certezza già alla portata di mano cioè l'esempio uno che ha progettato una gita mentre progetta la gita già si trova lì gasato perché è gasato? mancano ancora tre mesi hai lì il tuo biglietto aereo va bene il biglietto aereo ma ci vogliono ancora tre mesi eppure dal momento in cui vedi che la cosa è lì succederà veramente già tutta la tua dopamina e vai in giro cantichiando allegro perché ti vedi già lì e così è per tutto la capacità di credere e vedersi già lì è quella che ti scatena il piacere e il piacere è quello che ti rafforza la volontà e la capacità di agire e di investire in quella direzione quindi il processo è emunà credo che succederà tanug ne provo già piacere razzon voglio attivarmi il credere quindi è ciò che ci porta a realizzare ogni cambiamento chi non crede veramente non sente in sé alcun piacere vivo per la cosa e non sviluppa alcuna attività che la faccia agire quindi alla fine noi ci rigiriamo nel nostro brodo scaldato e riscaldato e non facciamo un passo avanti e non cambiamo in quanto non facciamo niente per cambiare perché fare qualcosa è possibile soltanto quando lo vogliamo veramente ci crediamo e allora ci attiviamo e ne sentiamo piacere e portiamolo in senso spirituale stiamo servendo a Shem ok Moshe arriva e chi non ci crede tutti ci crediamo fa parte dei tredici principi sui quali si basa la nostra fede abbiamo l'obbligo di crederci ma dov'è la mia fede in Moshe immagazzinata su in solaio in soffitta probabilmente insieme alle cose che non si utilizzano perché non sono attuali per il momento se è tutto un tratto a casa devi usare una cosa perché è necessario adesso vai anche fai la fatica e andarla a prendere in soffitta dove l'hai messa anni prima ma se non hai bisogno sta lì sì lo sai che può servire ma sta lì così la nostra fede la nostra aspettativa in Mashiach è qualcosa sì sì ci crediamo ma dov'è è astratta non sta veramente per succedere e guardate invece se andiamo a vedere i shluchim gli inviati gli emissari del Rebbe provate a pensare a una coppia giovani di sposi che va come inviato in una qualche isola del mondo in Sri Lanka dove non c'è niente 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 di ebraismo niente zero e nel giro di pochi anni la vita lì fiorisce perché degli ebrei ci sono e cominciano ad esserci scuole mikv sinagoga cosa no cibo kasher britot circoncisione tutto comincia ad esserci tutto da una coppia di ragazzini che aveva sposati senza esperienza che cose li ha portati a questo se non una fede dove vedi già dove vuoi arrivare ci credi e hai un entusiasmo tale che ti porta a investire a volere investire e a realizzare e sai con questo porti Moshiach nel mondo riveli il divino nel mondo ora quando è questo che ti muove si realizza quello che viene detto ma in genere noi solo lo diciamo end var o medlif ne arazon non c'è niente che può ostacolare resistere davanti alla volontà ma di quale volontà noi parliamo la volontà di cui parliamo quella del keter è una volontà che va al di là della logica perché quando ci mettiamo a ragionare a fare i calcoli arriviamo alle conclusioni sì sarebbe bello ma non è possibile quando noi ci attacchiamo a quella parte di noi che esiste in qualche modo e che va al di là della logica andiamo a testa bassa ci andiamo e lì i miracoli arrivano come arrivano nel mese di Nissan ora quindi vogliamo uscire dall'Egitto vogliamo uscire dal nostro Egitto dai nostri limiti la domanda è quanto lo vogliamo veramente e quanto ci crediamo solo il 20% ha creduto allora che fosse possibile perché? perché è andato al di là della logica al punto che questo 20% ha fatto delle cose assurde sconclusionate davvero suicidio uccidere e legare il capretto a letto per quattro giorni ucciderlo davanti agli occhi degli egiziani il loro idolo prendere il sangue spalmarlo sulle porte e gli egiziani che guardano così e dopodiché cosa fai? lo cucini alla braccia col profughino che arriva dappertutto il capretto tutto intero perché non ci si possa confondere pensare forse era qualcos'altro è proprio l'idolo che gira lì sullo spiedo e dopodiché viene mangiato questo è un suicidio è come andare in mezzo a Shalom a Hamas gridando David Melech Israel Haive Kayyam è un suicidio sì è quello con tutta l'abbraccia che abbiamo fatto forse quelli fuori da Israele non capiscono la battuta ma è il nostro vero Yom HaTzmaut dove qui in Israele Yom HaTzmaut tutti quanti escono nei parchi e fanno l'abbraccia Yom HaTzmaut però è anche il giorno della libertà dell'indipendenza della libertà quello è stato il nostro vero Yom HaTzmaut abbiamo fatto l'abbraccia e siamo diventate delle persone libere ma perché pensiamo anche al sangue che abbiamo spalmato sulle porte così l'abbiamo spalmato per dare un segno ad Akkadosh Baruch Hu che non si sbagliasse per caso e colpisse qualche primogenito degli ebrei ridicolo pensarlo Akkadosh Baruch Hu distingue e sa perfettamente dove andare dove colpire il segno era per noi era per gli ebrei per gli ebrei che vedendo quel segno si ricordano e risvegliano in loro il fatto che loro hanno preso tutta l'idolatria e l'hanno buttata via che sono liberi non sono più schiavi dell'idolatria hanno scelto la libertà e sono veramente liberi sono servi siamo servi di Dio e questo ci permette di essere completamente liberi nel mondo ora c'è qui un c'è qui un esempio che ci aiuta a riferire tutta questa cosa a noi e al nostro lavoro più interiore l'esempio è questo se vediamo dei fiori prendiamo l'esempio quando il ria quando il comune nelle varie aiole dei parchi o in mezzo ai viali viene verso la primavera e comincia a piantare dei fiori vediamo i fiori che vengono piantati uno a uno dalla porza della mano dell'uomo questo piantare nostro dei fiori è quello che corrisponde un po' nel servizio divino al lavoro del mese di Elul di Tisce a Nile Dodive Dodili io faccio uno sforzo e comparato al mio sforzo arriva dall'alto il noi facciamo sforzo è il risultato sempre di Dio però arriva dall'alto come conseguenza per cui quanto io faccio lo sforzo tanto mi arriva il risultato è comparato quindi il mio lavoro dal basso e Hashem risponde col flusso di bene che ci manda vi sono però anche dei campi bellissimi di fiori dove vai in campagna selvatici dove nessuno è andato lì nessuno ha seminato nessuno ha piantato proprio niente e che crescono da dove vengono questi fiori è tutto viene da Dio e questo corrisponde al lavoro di Dodi Li Vanillo non ho fatto niente e Dio mi manda questa abbondanza che scende dall'alto ok si può dire anche che è naturale in primavera è ciò che succede a parte che la natura è quello che Dio comunque stabilisce ma quello che ci interessa qui è capire qual è la nostra parte in ognuno di noi si può dire c'è un campo di fiori pronto a germogliare a fiorire fiori che vogliono venire fuori vogliono fiorire una fioritura primaverile che vuole spuntare e Dio a Nissan ci viene a dire non dovete nemmeno lavorare tanto quanto credete per questo il rinnovamento il tirar fuori una nuova strada venire fuori e tirar fuori il potenziale non dovete neanche lavorare tanto per questo cosa dovete fare dovete solo volerlo ma volerlo veramente per volerlo veramente cosa dovete fare dovete crederci crederci e provarne piacere l'abbiamo imparato adesso quindi noi dobbiamo provare a immaginare e questo è un esercizio che ognuno di noi può fare io ve lo propongo immaginare proprio chiudere gli occhi immaginare come vorremmo essere ognuno di noi ha le proprie mette che vuole raggiungere ha un'immagine di sé un'immagine corretta più perfetta di sé come vorrebbe essere e non cose chissà dove cose buone normali come uno vorrebbe essere in genere come se uno vorrebbe vuol dire che non è intanto esattamente così quindi per esempio io mi vedo e desidero essere sempre allegra senza arrabbiarmi mai meno critica più serena più ordinata ora se riesco a visualizzare il mio io perfetto questa mia immagine questo lavoro se lo faccio come va fatto in modo che la visione in me sia così reale dovrebbe essere così reale scusatemi da pareggiare il suono della latina di coca cola che si apre abbiamo usiamo questo esempio perché abbiamo visto che delle persone possono attivare nel cervello la dopamina i centri del piacere del cervello solo a sentire della coca cola a me la coca cola non interessa non piace però questo esempio mi fa capire che se io riesco a visualizzare immaginare il mio io ideale quello che voglio essere diventare in una maniera così concreta che la vedo lì che è possibile a quel punto veramente il piacere per questo traguardo comincio a sentirlo e se il piacere comincio a sentirlo la dopamina comincia a funzionare e riesco anche a investire a a fare delle azioni concrete che mi portano a realizzare un'uscita verso una vita nuova verso un cambiamento chi ci crede veramente si entusiasma e agisce per arrivare al suo scopo e ci arriva si può vedere comunque c'è qualcosa di interessante se andiamo in un campo di fiori vediamo che dappertutto sono spuntati i fiori da dove sono spuntati semi che evidentemente erano nella terra pronti tutto l'inverno a venire fuori hanno aspettato la primavera le condizioni migliori e sono venuti fuori però in genere il posto dove le persone camminano e passano lì si creano come dei sentieri dove pur essendoci sotto anche lì evidentemente ci sono dei semi anche lì lì non spuntano niente non spuntano perché può essere se vogliamo fare il paragone dentro noi stessi può essere che anche noi cosa succede che anche in noi ci sia qualcosa che vuole spuntare che è già lì dei semi di fiori che vogliono uscire qualcosa che vuole spuntare fiorire ma non lo fa perché forse perché noi camminiamo sempre sullo stesso sentiero perché non siamo disposti a cambiare a prendere nessuna direzione diversa nessuna strada nuova noi non fioriamo non ci rinnoviamo non svegliamo il potenziale che abbiamo perché seguiamo sempre solo le stesse abitudini lo stesso modo di pensare facciamo le stesse cose ragioniamo sempre lo stesso modo se non ci si butta se non si è disponibili a rischiare a uscire dalla nostra scatola dalla nostra zona di conforto sarà dura che lì i fiori vengano fuori se non se camminiamo in tondo sempre sullo stesso sentiero lì non spunta fuori niente quindi forse vale sì la pena di buttarsi credere nel cambiamento diventare fra quelli del 20% che sono usciti dall'Egitto ora noi ci è stato garantito che nella Geulà usciremo tutti non sarà più come nell'Egitto però abbiamo anche dei modi diversi di uscire dall'esilio entrare nella redenzione e più il nostro lavoro sarà già oggi in questa direzione più apprezzeremo e godremo dei frutti e dell'incredibile piacere che proveremo nella redenzione prima di finire qualche parola ancora sulla sulla Parashah c'è un aspetto interessante di nuovo si parla di purità e impurità e questa è un'impurità derivata dalla Sarat dalle piaghe che vengono sulla pelle e che vengono collegate alla maldicenza alla Lashonara allora qui riceviamo anche una una lezione importante che si collega in qualche modo a quello che abbiamo detto fino adesso c'è un qualcosa di strano che accade ed è il fatto che un sacerdote che visita una persona un ebreo che ha ricevuto un sintomo di questi sulla sua pelle e metti che il sacerdote il koen o che sia le prime armi o per qualsiasi motivo non è sicuro della sua fra virgolette diagnosi e non è sicuro di riconoscere se Sarat o meno a quel punto chiama un esperto e l'esperto metti che gli conferma si è Sarat ora l'esperto che veramente ci capisce perché Dani è dentro ne ha viste di tutti i colori e le riconosce perfettamente può dire fino a domani è Sarat è Sarat è Sarat la persona che ha questa Sarat resta pura fino a che non è il koen a dirgli si è Sarat a quel punto la persona diventa impura uno dice ma com'è possibile questa cosa e qui veramente c'è un insegnamento grandissimo che noi dobbiamo utilizzare perché soltanto il koen quello che caratterizza il koen arona koen quando se ne parla è sempre l'incredibile amore che ha per il popolo di Israele per ogni ebreo amore che lo porta a guardare sempre dentro l'ebreo e a vederne il bene per cui quando il koen poi il koen è quello che riesce anche a espiare i peccati ma il koen riesce a vedere il peccato staccato dal peccatore non è il peccatore che non va bene la persona l'ebreo va sempre bene la sua parte più profonda è perfetta l'ebreo va bene ha fatto qualcosa è uscito qualcosa di esteriore in lui che non va bene quella va giustata ma lui va bene quindi quando tu ti riferisci a una persona con tutto l'amore e l'apprezzamento a quel punto puoi permetterti di dichiarare l'impurità ma l'impurità non la persona per cui anche chi la riceve può ricevere l'insegnamento di quello che Dio gli ha mandato per esempio con l'azzarrata veniamo a a scoprire cosa succede a una persona che ha avuto l'azzarrata viene allontanato allontanato da tutti non come qualche altra impurità dove si deve allontanare soltanto fino a un certo punto no viene mandato fuori da tutti gli accampamenti e deve stare da solo completamente da solo ora questa sembra una punizione grandissima quando la vediamo come un'espressione di amore dove io credo in te vedo il bene che c'è in te e capisco anche in genere perché una persona cade nella lascionara nel parlare male di qualcun altro quando succede in genere quando una persona non sente il proprio valore non ha un apprezzamento vero di chi è veramente e per sentirsi qualcosa e qualcuno deve abbassare l'altro deve parlare male dell'altro ora il nostro amore per la persona può risvegliare il bene che c'è e la persona può vedere quel bene e non sentire più questo bisogno di abbassare l'altro e l'essere completamente isolato come lì doveva succedere mette la persona in una condizione alla quale non è abituato alla quale non si compara più con nessun altro lui ce l'hai o no così ma una persona incontra all'occasione di incontrare se stesso di scoprire se stesso il proprio potenziale lo che c'è in se stesso e di credere che possa venire fuori questo potenziale di credere nel poter prendere una nuova strada tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso per cui è un insegnamento estremamente collegato e con questo termino oddio non ho guardato l'orologio sì dovrei fare in tempo per il minra baruch Hashem e abbiamo addirittura tempo anche per un po' di condivisione e voglio stanto ricordare ancora le altre leggi del mese di Nissan in cui siamo entrati dove dare particolare importanza oltre a dire ogni giorno la la presa dei Nessim con le ira zon che ce l'ha è veramente bello anche dirlo e il non si dice tahanun e la benedizione degli alberi Bekhataylanot è molto più importante di quello che pensiamo non è un optional e ha contenuti spirituali incredibili non sto a entrare e non so neanche spiegare capire comprendere a fondo tutti i risvolti ma noi andiamo a liberare delle anime intrappolate e racchiuse con queste nostre benedizioni per cui è qualcosa assolutamente da fare quello che si dice è corto è semplice ve l'ho anche mandato mi sembra bisogna trovare due alberi da frutto possono essere diversi o uguali che abbiano però dei fiori e ho sentito che è meglio che non siano degli alberi degli agrumi peccato perché io quelli che ho in disposizione sono quelli il meglio sarebbe se fossero dei frutti della terra di Israele ma le cose cominciano a complicarsi in ogni caso meglio che se non si riesce a farlo al top di cercare comunque due alberi che puoi vedere in contemporanea anche se non sono attaccati ma le puoi vedere insieme con dei fiori e fare questa benedizione c'è tempo tutto il mese di Nissan oggi era il momento migliore per farlo devo confessare che non sono riuscita a farlo oggi ma Bezrat Hashem faremo e se poi verranno in mente altre cose rispetto al mese di Nissan le diremo però ricordarci che siamo nel mese dei miracoli se vogliamo vedere questi miracoli dobbiamo attivare la nostra possibilità di credere in questi miracoli che noi stessi possiamo potenziarli e renderli effettivi con un cambio di direzione interiore e con una vitalità nuova e un credere nella loro possibilità grazie a tutti prossima settimana vedremo se sì o se no nel caso fosse no questa merca a tutti ma spero che qualcosa riusciremo a incontrarci a dirci anche settimana prossima perché no 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 Grazie a tutti.